Buongiorno a tutti, nel report di aggiornamento normativo e giurisprudenziale di questa settimana ci occuperemo esclusivamente del decreto legge sostegni terra, il decreto legge 27 gennaio 2022 numero 4 che è stato appunto convertito nella legge 28 marzo 2022 numero 25. Come potete vedere le materie interessate dalla norma sono tantissime, dal tributario, al diritto penale, dall'amministrativo alla giustizia amministrativa, al diritto degli enti locali, al diritto dei contratti pubblici, immigrazione, dirizia urbanistica perché ritorna ancora sulla questione super bonus 110, diritto scolastico, poi modifica tantissimi provvedimenti tra cui anche lo stesso codice penale, il codice del processo amministrativo e ancora vedete il testo unico dell'ambiente, il testo unico dell'immigrazione, il decreto antiriciclaggio, il tour, insomma tantissimi interventi modificativi e i volumi interessati chiaramente per chi partecipa ai concorsi pubblici sono tantissimi perché appunto abbracciano materie molteplici. Ho cercato di riassumere in poche norme quelle più significative che possono interessare appunto il mondo dei concorsi e in particolare nell'ambito del titolo primo che è intitolato sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza covid, l'articolo 6.5 inserisce i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti alla UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato in nulla osto al lavoro per i casi particolari. Tutto questo è esenzia appunto del regolamento di attuazione del testo unico immigrazione. I commi da due bis a due quinques dell'articolo 7 regano misure volte a assicurare alle persone con disturbi specifici dell'apprendimento delle uguali opportunità per l'accesso al mondo del lavoro anche attraverso previsioni di donne e modalità di svolgimento dell'attività di selezione nell'ambito privato nonché una migliore inclusione professionale disponendo nello stesso tempo che tale misure siano applicate in ambito sociale in ogni occasione di valutazione dei percorsi formativi finalizzata all'esercizio di un'attività lavorativa. Quindi questa è una cosa molto importante. Nel titolo secondo intitolato regioni antiterritoriali il comma 3 dell'articolo 11 bis interviene sulle norme di attuazione del codice del processo amministrativo per riconoscere un incentivo economico al personale amministrativo della giustizia amministrativa che concorre al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato previsti dal PNRR. L'articolo 12 bis invece prevede che a decorrere dal 2022 per tutta la durata del piano nazionale di ripresa e resilienza le assunzioni di segretarie comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120% delle cessazioni dal servizio nel corso dell'anno precedente. L'articolo 13 terza vi dice che non trova applicazione fino al 31 dicembre 2022 la inconferibilità di quell'articolo 7,1 del decreto legislativo 39-2013 con riferimento ai componenti dei consigli comunali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi anch'esse i 15.000 abitanti. La disposizione al comma 1 in particolare è spessamente finalizzata a non disperdere le professionalità e le competenze acquisite dagli amministratori locali nel corso appunto del loro mandato specialmente durante la fase emergenziale da Covid-19. Il comma 2 invece dispone che gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui sopra conservino validità fino alla scadenza naturale dell'incarico. L'articolo 13 septies interviene sulla procedura straordinaria di dissesto degli enti locali allo scopo di fronteggiare ulteriori passività sopraggiunte derivanti da socconvenze incontenziosi civili giudiziari per dei fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario. In pratica la disposizione è volta a fronteggiare i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 sulle entrate degli enti locali allo scopo di favorire gli enti locali appunto nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire continuità di erogazione di servizi essenziali e sostenere la realizzazione dei progetti connessi al PNRR. Con il titolo terzo, che è intitolato misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica, l'articolo 17 apporta molte modifiche alla disciplina della commissione PNRR-PNIEC intervenendo sull'articolo 8 del testo unico dell'ambiente. Le modifiche operate appunto su tale norma sono finalizzate a accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese. Il titolo quarto, intitolato altre misure urgenti, all'articolo 19 reca misure urgenti per la scuola e l'università e la famiglia, l'articolo 20 invece reca disposizioni in materia di vaccini anti-SARS-CoV-2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare. L'articolo 23 invece opera alcune modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale alla disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solità di età bilaterali e sull'assegno ordinario di integrazione salariale del fondo di integrazione salariale cosiddetto FIS dell'Inps. L'articolo 23 quater differisce dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 una norma transitoria relativa, nell'ambito della disciplina sulla somministrazione di lavoro, alla durata complessiva delle emissioni a tempo determinato per un soggetto utilizzatore. L'articolo 28, molto importante, introduce misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e in particolare l'articolo 28 bis rega misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche, intervenendo anche sul codice penale, riproducendo il contenuto dell'articolo 2,1 del decreto legge 13 del 2022 che è stato contestualmente abrogato e intervenendo, come dicevo prima, sulla disciplina dei delitti di malversazione a danno dello Stato, articolo 316 bis che poi viene rinominato in malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, 316 terri del codice penale, rinominato a sua volta indebita percezione di erogazioni pubbliche e ancora truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, quella di cui è l'articolo 640 bis del codice penale, per estendere il campo di applicazione a ulteriori erogazioni pubbliche comunque denominate per l'appunto. La disposizione prevede inoltre che in caso di condanna per i delitti di truffa a danno dello Stato, articolo 640 secondo comma numero 1 del codice penale, e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, articolo 640 bis del codice penale, la confisca allargata dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza, quindi viene estesa. L'articolo 28, ovviamente parliamo del 240 bis del codice penale, l'articolo 28 quinques del decreto sostegniter rega disposizione urgente in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali nell'ambito dell'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose per finanziamento del terrorismo, ovviamente andando a novellare anche il decreto legislativo 231 del 2007. L'articolo 29 è volto a incentivare gli investimenti pubblici e quindi a far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale dovute al covid-19 che hanno ovviamente determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali della costruzione e infatti interviene anche sulla disciplina indirettamente del codice degli appalti pubblici. Per oggi abbiamo terminato, io vi ringrazio molto e vi saluto.